Il Tar ordina di verificare i risultati della sezione 82 già interessata dal ricorso dell'Avvocato Reale. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione di Catania, sul ricorso presentato dall'Avvocato Gianluca Caruso, che assiste il candidato di Forza Italia Giuseppe Carnazza, ha ordinato l'apertura della busta della sezione 82 e di verificare i risultati della stessa, oggetto fra l'altro di una verbalizzazione del professor Enzo Vinciullo presso l'ufficio elettorale centrale. Come si ricorderà, la sezione 82 è stata oggetto anche del ricorso dell'Avvocato Reale e anche in quel caso il Tar ha ordinato l'apertura della busta e la verifica dei risultati elettorali. E' chiaro che dovendo aprire adesso la busta della sezione 82 e non sapendo se la stessa è già stata aperta dalla Commissione che sta operando presso la Prefettura, sarebbe opportuno che all'apertura delle buste partecipassi anche l'Avvocato Reale o un suo rappresentante per verificare i dati. A questo punto, ha proseguito Vinciullo, sarebbe necessario e opportuno che l'Avvocato Reale relazionasse alla città sullo stato dei lavori della Commissione, su quante sezioni sono state già controllate e su quali sono i risultati a cui si è pervenuto dal momento che non possiamo continuare a inseguire tutte le notizie che di giorno in giorno vengono diffuse dagli organi di informazione. Un'operazione chiarezza ha concluso Vinciullo, dal momento che il Tar ha ordinato di effettuare una operazione verità credo che sarebbe necessaria.